A Fano ci sono 105 casi confermati e 14 casi probabili di dengue. Attualmente le persone ricoverate non in condizioni gravi risultano essere solo 6, di cui 2 casi accertati e 4 sospetti di infezione. E questo è il dato sul focolaio in corso che emerge oggi dopo la riunione del gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. Dal primo caso risalente all'incirca ferragosto all'ultimo diagnosticato il 25 settembre, secondo il Gore, se si sta constatando un trend di diminuzione con casi sporadici e con la curva di incidenza in fase discendente. Intanto però continuano le indagini epidemiologiche per definire le caratteristiche dei casi e le indagini entomologiche con il posizionamento di trappole per zanzare. Tutte le attività in campo sono state avviate in collaborazione tra i servizi di prevenzione umane e veterinari ed è stato potenziato il sistema di sorveglianza attiva, sensibilizzando i medici e i pediatri per l'individuazione di pazienti con criteri clinici compatibili con infezione da dengue. Sono state anche poste trappole per zanzare per studiare la consistenza della popolazione di insetti e il loro grado di infettività. Come comunicato dall'Istituto Zooprofilattico, le ultime catture non hanno evidenziato la presenza di virus come era invece stato rilevato nei giorni precedenti. Intanto il Comune di Fano prepara nuovi interventi di disinfestazione. Come da prassi, il Centro Regionale Sangue ha invece indicato che in caso di donazione di sangue sia per i donatori di Fano che per quelli che sono stati a Fano per poche ore, venga effettuato il test per dengue. Sono stati finora effettuati 438 accertamenti su residenti a Fano e 238 su persone transitate in città. I risultati sono tutti negativi.